Meno tre giorni al voto anche per il quinto centro della marca per numero di abitanti e il più popoloso tra i 55 comuni al voto il prossimo 8 e 9 giugno. Una campagna elettorale non senza scontri, quella tra i tre candidati sindaco a Mogliano Veneto. La campagna elettorale è stata un po' pesante, soprattutto all'inizio. Mano a mano la gente si è resa conto che noi eravamo per la strada giusta, non insolenti, non esagerati, con la nostra campagna elettorale pacifica fino alla fine. Sono le ultime fatiche, è importantissimo andare a votare. I miei avversari si stanno concentrando contro di me, si stanno concentrando nel criticare le mie proposte facendo poche proposte anche magari irrealizzabili. Noi andiamo avanti. È stata una campagna bellissima e siamo riusciti ad entrare in contatto con le vite di centinaia e centinaia di cittadini. Sentiamo che stiamo crescendo giorno dopo giorno e la sfida è più aperta che mai. Ambiente sociale, urbanistica e sicurezza, i temi cardine degli sfidanti. Una città sempre più sicura, ancora più sicura e su questo entro il 2026 avremo la cittadella della sicurezza. Porteremo a termine il grande piano di videosorveglianza. Poi un altro bisogno che ci chiedono i cittadini è di avere una città sempre più pulita, sempre più priva di barriere architettoniche, incrementare la rete ciclabile. Abbiamo in mente di fare un biciplan che vada a collegare tutte le nostre piste ciclabili. La sicurezza è terreno di confronto anche per l'assessora dimissionaria della giunta uscente. La gente deve vivere la città e per essere viva deve essere sicura. Il Bobby, come lo chiamo io, che è il poliziotto di quartiere, che crea fiducia nella gente e voglia di stare fuori, sia di giorno che di sera. Questo è prioritario. I cittadini vogliono le cose concrete, non vogliono le grandi opere, vogliono le strade a norma, i passaggi pedonali protetti, soprattutto nelle strade dove corrono un po' troppo. E quindi per me questo è il bisogno primario. Il tema della casa al centro del programma per il candidato che vuole portare Mogliano al centro-sinistra. Canone calmirato è un fondo di garanzia per gli affitti comunali che permette ai privati di mettere sul mercato i propri immobili. Manca attenzione all'ambiente e alle necessità dei giovani. Noi pensiamo di rivedere il piano regolatore e il dimensionamento per fermare non solo quello che è la speculazione del mercato immobiliare, ma per fermare anche quella che sono la costruzione di nuovi supermercati. Con quello che riguarda invece i giovani, pensiamo di portare sia dei sussidi dell'affitto, che far sì che nell'alto di cinque anni ci siano un posto negli asili nido convenzionato per ognuno dei nuovi nati. Grazie a tutti.